Alla richiesta avanzata dal Governo sulla necessità di un monitoraggio complessivo dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza, la provincia di Teramo risponde con una lunga e dettagliata relazione tecnica che fissa gli importi necessari a rimuovere le condizioni di rischio delle proprie infrastrutture. 211 strade provinciali, 274 ponti, attraversamenti pedonali e autoparco. La cifra che ne viene fuori è astronomica, 1 miliardo 700 milioni di euro. Impensabile poterla ottenere e per questo il Presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, pone come priorità i ponti provinciali che pur essendo sicuri necessitano di un costo immediato di manutenzione pari a circa 113 milioni di euro. Allo Stato abbiamo presentato un report complessivo che riguarda sia le strade che per i ponti. Siccome oggi il tema è dei ponti, tengo a chiarire che la provincia in questi quattro anni, come vedrete anche dalla scheda, ha aggiustato, sistemato e consolidato molti ponti, compreso quello di Garrufo, su cui impropriamente c'è stata un'indicazione di un indice pari a zero, quando l'indice, dopo i lavori che abbiamo fatto, è stato innalzato notevolmente e quindi è un ponte che sicuramente non è a rischio. E oltre questo abbiamo da tempo indicato sia al Ministero che alla Regione il fabbisogno della provincia. E per le strade e per i ponti. Per i ponti a somma a oltre 100 milioni, se non ricordo male, 113 milioni di euro. Di Sabatino ricorda che comunque la provincia di Teramo non è mai stata con le mani in mano e in questi ultimi quattro anni ha appaltato opere per 120 milioni di euro in favore di ponti, strade, scuole e lo ha fatto, sottolinea ancora il Presidente, con una certa amarezza, in totale solitudine. Questo è il paese in cui si aggiustano le carte. Questo è il paese in cui troppe persone, soprattutto quando hanno dei ruoli politici e istituzionali, per dare un segno della propria esistenza, devono inveire contro qualcosa o contro qualcuno, a differenza di altri come non io, ma questa provincia in quattro anni ha fatto 120 milioni di contratti, 120 milioni di opere che sono state realizzate, che sono in corso e che saranno realizzate nel prossimo futuro grazie al lavoro di tutti quanti, di chi non sta lì a tagliare i nastri, a fare inaugurazioni, ma cerca di lavorare con le somme a disposizione e quando non ce l'ha se le va a trovare. E ancora, per spazzare via ogni polemica fatta recentemente dal consigliere regionale Leandro Bracco, il Presidente di Sabatino ha annunciato che prima del termine di fine ottobre del suo mandato saranno consegnati i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Castelnuovo.